benvenuti qui da cube radio in diretta da sanremo siamo qui in collaborazione con i quotidiani locali di il gruppo jedi come vedete qui alle mie spalle il forte della musica il forte santa tecla sede all'interno della quale noi possiamo trovare tutti i social media manager e il reparto marketing che curerà tutto l'aspetto social di questo sanremo 2019 ed è proprio dall'analisi di questi gruppi che ne è derivato che quest'anno il festival della canzone italiana non è mai stato così tanto social e sono stati inoltre creati dei contenuti esclusivi come gli stickers e le gif ufficiali di festival sanremo 2019 ma noi vogliamo dirvi che questa sera il team di cube radio sarà ufficialmente invitato al dopo festival con rocco papaleo e avremo la possibilità di fornirvi ulteriori contenuti in esclusiva solamente per voi seguite il festival di sanremo secondo l'hashtag sanremo 2019 e seguite le nostre trasmissioni sui nostri profili social con l'hashtag sanremo usve